Grazie, festeggiamenti per i 110 anni della società dureranno sino a stasera. Domani i biancocelesti saranno impegnati ad Udine. Pietro Pasquetti. Per la Lazio è un giorno speciale, oggi compie 110 anni. La polisportiva biancoceleste si è ritrovata nel Salone d'Onore del CONI, al Foro Italico, per festeggiare insieme al Sindaco Alemanno, al Presidente del CONI Petrucci, a dirigenti e tecnici, ad atleti di ieri e di oggi. La più bella favola che è stata scritta a Roma da oltre un secolo. Un motivo di formidabile orgoglio, grande impegno per garantire un futuro all'altezza della tradizione. Questa sera nel Gran Teatro, a Tor di Quinto, ci sarà la manifestazione dei tifosi, tutti insieme per rivivere tante emozioni, per ricordare gioie e dolori, vittorie e sconfitti. La squadra intanto parte per Udine. Domani nello Stadio Friuli giocherà l'ultima giornata del girone di andata. È un'altra partita delicata per tirarsi fuori dalle paludi della bassa classifica. In attacco Ballardini conferma la coppia, Zarate, Floccari e Rocchi partirà dalla panchina. In difesa torna a Stendardo ed esce Diakite. A centrocampo, ballottaggio tra Brocchi e Firmani.